Con la muffa e gli raccomando i dettagli E' strada Ciao signore Signore E poi sono i carabin L'ambulanza che passa nel momento sbagliato E poi siamo noi che facciamo Accusi di cappelli Io sono molto sexy con il cappello Tu guarda Ok Lo so Adesso dobbiamo abbassare le ginocchia Abbassiamole Che bello Poi lo sai che non pubblicherò questo video Ma è più su YouTube Perché ci metterà due video e mezza a pubblicarsi Ci provo Ciao signore Ciao 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 Non te l'ho mai fatto uguale Sì Ciao signore Che posso fare conoscere Ciao Angelo Angelo Signore Eeeh Stanno con i vestiti Mi spiace Ciao signore Ciao A me lo chiedi Io tipo che sono un buco senza fondo Ci sono le armi Guarda 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 Bravi signori Bravi Ecco prof rollo Adesso lei è contenta Abbiamo visitato il Vaticano E' bello E' bello Non è vero Mi sono stancato un casino Non voglio più fare niente Ciao Ciao Pro rollo adesso è contenta 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 Basta Sono grandi Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo ancora vivi Questo è il terzo giorno E siamo ancora vivi Sotto l'idra di Dio stiamo C'ho i capelli sudati Più di quando mi faccio il bagno Guardate Ciao signore Ciao signore Bello Beh beh ciao Sono cilino Ciao Ecco loro vedo Se Dio non mi chiedete perché faccio le Luglia Forse perché stavo morendo di caldo Qualcosa mi ha stragiato Forse è Gesù Cristo che escello di terra No Forse è il fresco di questa casa Perfetto Bellissimo Come sempre Siamo di nuovo tornando Niente Va bene ragazzi Adesso siamo infatti nella cupola Per adesso sta andando tutto bene Stiamo risparmiando un casino Due euro abbiamo risparmiato No veramente Dobbiamo pagare Con l'ascensore Dobbiamo pagare 22 E invece Senza centore 16 18 E quindi Abbiamo risparmiato un sacco Stiamo morendo di fame Di sete Di dolori I talloni però tutto ok Signore siete pronte Guardate Che bello no? Vediamo le immagini un po' meglio Bellissimo Qua c'è il buco Io vorrei stare là sopra Poi attenzione a non far cadere il vostro bel telefono là sotto Perché se no è morto Poco morto Perché c'erano tre piani sotto di noi almeno E già sono troppi Ok perfetto Ecco Qua me ne sono Quattro piani Poi c'è quella statua che non so cosa sia Va bene Poi c'è la qualcosa C'è la rete quindi Niente Ok Tu come stai? Racconta le tue esperienze Sono distrutta Racconta le tue esperienze Sono distrutta Racconta le tue esperienze Ho sedo Ho fame Ho fame Mi sono stancata e sto sudando Ok Sì Siamo iniziando a salire per la cuba In alto Poco in alto E quindi siamo proprio morti Poi dobbiamo fare tutto il torno indietro E sarà una morte più che certa Bello Nuova Bella la Roma Io vorrei una scala così a casa mia Che bella la finestra Ok ragazzi siamo in fine di vita Che bello questa pietra c'è di fuori Io so io faccio comprare che mia madre mi ha dato il cappello Basta Non ce la faccio più Basta È sauce Chiamata sauce We are the champion British Boom boom Bellissima Non la rifare mai più questa esperienza sincera Non ve la consiglio a nessuno Ecco che arrivano le delusioni Che c'è sta cosa Ciao signore Abbiamo le delusioni della vita Che non è finito È così inclinato che io Cado Proprio in Kimi Perché è così inclinato Guardate l'assentuazione Ci hanno messi male qua Ma boh male 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 Come è stato riferito Come mi è stato riferito Insomma mancano un sacco di gradini altri Intanto noi siamo in inclinazione massima Ciao Roma È bello no? Sì Proprio facciamo Come dire La tromba per noi È l'ora della nostra morte Cioè per farvi capire ancora Non abbiamo finito Youtube Vi abbiamo voluto bene Ma siamo arrivati È luce fu Non è vero È solo un buco nel tetto Come mi è stato riferito da lei Dobbiamo ancora scendere Qua c'è così tanto Spaggia Sti livelli no Guardate quanto è piccola Io ce la posso fare Dobbiamo tenerci Ho una coda Ho una corda Poi ci sbiamo a coserete Poi dici no? È quello I bugati si Guarda il champion Non andava a voglia Lui no Per vedere I giardini Grazie Dio Dio tu una volta ci hai voluto bene Per le tue esperienze Non consigliare mai a nessuno A fare questa esperienza Sono stanca Non voglio più fare Grazie Perfetto Abbiamo finito tutto E ce ne stiamo andando Il tetto sembra che sta per cadere a terra Allora ragazzi Vi ricordate questo posto Quando stavamo là sopra La Senta le gradinute La sopra Stavamo Vedi c'è la rete Quindi stavamo là sopra per forza Guarda che sto indicando Ecco E c'era quella cosa Che abbiamo visto Dove il papa cammina Ti vuole fare il bello Sulla striscia rossa E poi va là Io sono qua Allora ragazzi Questo è l'ultimo video di oggi Sicura? Sì Perché sa per finire la carica Quindi non mi va E ora devo montare il video Ciao 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 Grazie a tutti.